In questo video faremo il test della fontana scoppiettante, Bengala scoppiettante, che poi è una fontana tubo unico ed è un prodotto di Irazzi Group che ringraziamo infinitamente per questo carico di prodotti incredibili che ci hanno mandato da testare. Irazzi Group sono un'azienda che si occupa dell'importazione e della rivendita del prodotto, della distribuzione del prodotto sul territorio. Questo consente all'azienda di avere pieno controllo della struttura grafica e tecnica interna appunto del prodotto. Come potete vedere le grafiche sono interessanti, se non l'avete ancora fatto andate a vedere anche degli altri test che abbiamo fatto sulle fontane a più tubi che sono veramente esplicativi di questa attenzione alla grafica del prodotto, oltre che poi anche alle caratteristiche tecniche, che ora controlliamo. Allora abbiamo appunto un Bengala scoppiettante tipo Fontana, tubo unico, abbiamo quindi un prodotto di categoria F2 e contenente una quantità di esplosivo netto di 13 grammi. E ora ringraziamo ancora una volta Irazzi Group e proviamola. Sì, è sprangata nei denti però. Bello, molto carino. È molto carino. Sì. No, tranquilla. Crackla, non lo so se ci sarà un crackling. Scoppiettante, suppongo di sì. Stiamo per avere un'intrusione, ragazzi. No, vado. Eccolo. Finisce scoppiettando. Bello, dai, simpatico. Questo prodotto potete trovarlo in tutti i Razzi Store e in tutti i punti di rivendita, i rivenditori dei Razzi Group che vengono riforniti più o meno in tutta Italia. Quindi Grazie a tutti.